bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi ovviamente un bel po di novità per quello che riguarda gli ultimi giorni della season 3 di fortnite e sì ragazzi perché oramai siamo lì è sei giorni il 27 agosto inizierà la nuova stagione io ovviamente sarò in live come sempre su twitch per vedere tutti i leaks insieme e nel video di oggi voglio parlarvi di alcune novità che sono state trovate relative soprattutto a una cosa che sarà molto importante nella prossima season ovvero sia la pesca ragazzi sembra ignorante come cosa ma sarà così parleremo della pesca parleremo di altri aggiornamenti sul libro e di tanti tanti leaks prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano con il mio codice creator nello shop xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi ed è proprio quello che vi dicevo cominciamo a leggere la prima frase ve la dico già tradotta nella season 4 ci saranno un sacco di nuovi flopper ma ce ne sarà uno particolare che si chiamerà midas flopper quindi proprio un pesce dedicato a mida questo flopper permetterà di avere una potenzialità unica se non riusciamo a pescare trasformerà tutto il nostro inventario con armi leggendarie se abbiamo il pompa metti che abbiamo un charge blu sbam diventa leggendario immediatamente abbiamo un aug viola sbam leggendario abbiamo una mitraglia bianca sbam p90 leggendario una cosa veramente incredibile ragazzi ovviamente quello che ci chiediamo è qual è lo spawn rate di questo pesce beh si vocifera che sia comunque molto simile a quello del pesce mitico allora io personalmente l'ho visto ma non l'ho mai catturato e vi posso dire che ho pescato davvero tanto in questi mesi di fortnite voi l'avete mai preso il pesce mitico non ditemi le bugie scrivetemelo qua sotto mi raccomando la cosa appunto veramente curiosa di questo pesce è che è una cosa over over power ovviamente questo è un concept non sarà ovviamente così il pescione ma comunque staremo a vedere un piccolo annuncio appunto di quello che sarà tutto il nuovo compartimento della pesca dedicato nella prossima stagione tra cui ragazzi anche un altro leak molto importante vi ricordate questa stringa ve l'avevo già fatta vedere ieri sembrerebbe che nella season 4 ci sarà il tema marvel tra cui anche thor e il suo martello come outfit ottenibili perché vi faccio rivedere questa queste stringhe perché la persona che le ha pubblicate ha aggiunto mi dispiace se per caso ep games non farà questa cosa ma per adesso chi me l'ha detto è stata la stessa persona che ha che mi ha detto l'arrivo del comic book con un sacco di giorni di anticipo quindi comincia a prendere veramente un fondo di verità il fatto che nella prossima season il tema degli avengers potrebbe essere molto molto più come dire presente rispetto a quello che abbiamo visto fino oggi staremo ovviamente a vedere state già vedendo ragazzi il prossimo argomento che è tutto quello tutte le stringhe di codice che ieri pomeriggio sono state trovate decriptate che arrivavano dalla patch 13.40 questo succederà ragazzi in base anche alla canna da pesca che utilizzeremo sì perché vi ricordo che verrà introdotta una nuova canna da pesca nella prossima season non si è capito se la dovremo trovare o se sarà possibile fare un upgrade della nostra quella già che conosciamo infatti leggiamo alcune cose che potrebbero che potrebbero apparire first catch new numero di pesci pescati personal best distanza in centimetri requires pro fishing road questa ragazzi è la stringa che ci interessa come sapete il nuovo nome della canna da pesca sarà pro fishing road e permetterà ovviamente di pescare un numero di pesci superiore e diversi da quella che siamo abituati a vedere vi faccio vedere alcune cose innanzitutto non ve li sto neanche a leggere tutti ma queste sono questi sono i nomi di alcuni pesci che potranno essere trovati ovunque nella mappa quindi in sembra non sia necessario obbligatoriamente un punto di pesca ne leggiamo un paio green flop per per esempio blue small fry oppure silver thermal fish oppure slarp jelly fish la cosa che ci chiediamo è ogni pesce avrà una sua caratteristica o semplicemente hanno deciso di aggiungere tanti pesci giusto per variare un pochettino sinceramente non sappiamo ancora nulla ma i nomi ci suggeriscono che possano avere delle caratteristiche diverse ci sono però anche delle location in mappa che saranno dedicate ad alcuni tipi di pesci ad esempio vicino alle aree montuose potremmo pescare cinquattro tipi di pesci il pili jelly fish il white spotted fire fish l'atlantic hop flopper e il purple slarp fish tra l'altro ce ne sono anche alcuni che si possono pescare solo vicino alle coste e altri che si possono pescare in diversi punti la cosa è veramente interessante perché come mai ap games ha deciso di dare così tanto nella pesca perché nel senso tra l'altro verrà aggiunta anche una cosa nuova ed è dedicata insomma a queste due stringhe che vi sto facendo vedere ve la spiego senza tradurle in modo che è più chiaro quando arriverà la prossima season verrà aggiunta probabilmente nel come opzione è da andare a vedere in lobby il numero di pesci pescati e il tipo di pesci pescati e addirittura sembrerebbe che arrivi una classifica che potrà essere comparata con i vostri amici io non so perché stiano facendo tutte queste cose sulla pesca mi sta diventando fortnite pro fishing 2021 e questa cosa vagamente mi spaventa ma nello stesso tempo mi diverte perché mi stanno mettendo i veicoli e già è diventato gta night adesso mi metti anche che posso pescare a momenti devi anche calibrare il coso del vento poi basta che mi metti le partite di golf abbiamo fatto quattro in uno nel senso staremo veramente a vedere comunque curiosa questa nuova feature che sta per arrivare ed ecco un concept quindi prendetelo mi raccomando con le pinze quello che vi sto facendo vedere potrebbe essere così la canna da pesca normale potrebbe poter essere upgradata come vedete in una nuova canna da pesca che poi a sua volta riceverà un nuovo potenziamento più è potente la canna da pesca più fighi sono i pesci che si riescono a pescare è veramente semplicissimo questa cosa insomma ragazzi staremo a vedere tra pochissimi giorni andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sono delle nuove informazioni dedicate al comic book voglio innanzitutto farvi vedere uno spezzone video perché per chi ancora non l'avesse visto ragazzi il comic book è proprio un libro che verrà mostrato in lobby ve lo faccio vedere immediatamente dura pochi secondi guardate lì eccolo qua ragazzi come vedete non si può purtroppo vedere cosa ci sarà al suo interno ma noi troveremo direttamente nella lobby quella dedicata appunto al tavolo delle sfide questo comic book oramai deve apparire perché mancano sette giorni e non credo proprio che la lobby rimanga uguale nella prossima season potremo sfogliarlo e come vedete ci sono un sacco di di codici che vengono scritti e che permetteranno a noi di interagire con lo stesso libro quindi lo potremo leggere lo potremo sfogliare sembrerebbe che potremmo addirittura esportare delle pagine e qua si apre tutto un altro capitolo enorme perché hanno preparato delle funzioni che si potranno fare con il libro che possono essere adattate a qualsiasi libro il che ci suggerisce che potrebbe non essere che il primo questo comic book che andremo a vedere non sappiamo assolutamente nulla solamente dei piccoli leaks che vengono appunto spoilerazzati da chi è veramente vicino al team di epic games e infatti come vedi potrebbe essere possibile prendere dal libro una pagina e magari esportarla sul proprio computer per dire o sul proprio sullo proprio playstation magari come immagine e leggerla con calma offline insomma ci sono veramente tantissime cose che staranno per arrivare e io sono molto molto curioso di vedere come abbiano deciso di inserire questo comic book e perché anche perché vi ricordo un'altra cosa noi stiamo aspettando i rift in game sappiamo che appariranno due rift sappiamo che appariranno sei rune ma non abbiamo idea delle posizioni corrette abbiamo solo delle supposizioni sembra che una si apra ovviamente sopra l'autorità sembra che un'altra si apra sopra grattogrill ed sarà anche quella la location dove dovrebbe arrivare anche high tower quindi una nuova città una nuova location nella prossima season e concludo salutandovi dicendo che c'è un'immagine che sta girando nel web in questi giorni che è quella di un palazzone nel verde totally fake ragazzi non è assolutamente un'immagine vera non è un'immagine che potete prendere per buona è semplicemente un concept fatto da qualcuno insomma ragazzi io vi ringrazio tantissimo anche per oggi per avere guardato il video news mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel pollicione iscrivetevi ai miei canali a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao